M8 è stata vinta da Ettore Manenti, fanno 20 giri, pronti per la terza partenza della giornata. Siamo pronti? Siamo pronti? Via, partita la terza gara, fanno 20 giri. Questo è il secondo passaggio. Ecco che dal gruppo è uscito un altro brappello. Mancano 18 giri a termine, M4 e M5. Gruppo compatto. Ecco il gruppo è compatto. Questa è la terza gara della giornata, qui all'autodromo di Castrezzato. Sette giri a termine, terza gara della giornata, M4 e M5. C'è Marco Agostini, Nicola Loda. Affrontano la curva, gruppo sfilato in fila indiana. A Berger, a Berger. 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 icopressione mered plank. A Berger. A Berger. Mancano 12 giri a termine, ecco il gruppo dei fuggitivi, Gianmarco Agostini, nel gruppo dei fuggitivi, il gruppo che insegue in fila indiana. 11 giri a termine, nel primo gruppo degli inseguitori, gruppo spaccato in tanti tronconi. Un giro a termine, un giro a termine, un giro a termine.